Eccoci in compagnia del direttore generale Ermanno Pieroni che ha convocato questa conferenza stampa alla vigilia di una partita molto importante e delicata contro l'Olbia. Quando abbiamo visto la convocazione della conferenza stampa, direttore, ci siamo un po' preoccupati, però lei aveva da fare alcune importantissime precisazioni. Beh sì, diciamo che questa era una preoccupazione che c'era anche nell'ambiente degli sportivi, mattinata a parte qualche messaggio, qualche telefonata l'ho ricevuta, ma io non è che devo sicuramente minare quello che il lavoro ha fatto fino ad oggi, bensì il mio obiettivo è quello di evitare che ci possano essere situazioni che possano incidere nel futuro della società e nel rendimento della squadra. Ho detto a voce alta il mio pensiero, ho citato dei numeri, ho fatto delle considerazioni, chiaramente mi auguro che all'esterno giunga il messaggio giusto agli sportivi che poi sono quelli che hanno più a cuore questa squadra, alla città stessa, a tutti coloro che sicuramente hanno contribuito a creare un miracolo secondo me sportivo donando a questa parte del quale tutta l'Italia ne parla in termini positivi e forse qui ad Arezzo qualche volta magari ecco c'è qualcosa che magari non va bene, è normale, questo può succedere in tutte le piazze, però obiettivamente ecco in questo caso credo che non sia giusto. Lei ha parlato di questa delusione rispetto alle aspettative dal punto di vista del ritorno commerciale della società sportiva Arezzo e poi anche a livello di spettatori, ci sono delle minori entrate rispetto a quelli che erano i budget previsti? Sì, ma sai si fa sempre un bilancio, un budget preventivo in tutte le cose, quindi automaticamente ci sono delle voci che chiaramente rispetto a quello che era forse magari un'aspettativa, forse magari troppo eccessiva, non lo so, può anche darsi, sai si fanno i budget preventivi, quindi però ci sono delle voci che hanno concorso, che ci sono state minori entrate rispetto a quello che sono riuscite, per cui c'è un disavanzo che chiaramente va attenzionato, va valutato, ma sul quale io per mia fortuna ho avuto un modo di parlare più ad un'occasione col Presidente, lui non ha difficoltà a coprire anche interamente dove fosse necessario. Lei ha giustamente anche esposto i dati numerici dell'investimento di Giorgio Lacava per quanto riguarda questa stagione, sono numeri importanti, credo che sia stata una precisazione che era dovuta visto che forse qualcuno se n'era dimenticato. Ebbene, bella domanda, rispondo volentieri, la ribadisco, 285 mila euro erano quelli già versati al Presidente da settembre in avanti, ad oggi, dal prossimo lunedì martedì prossimo farà un ulteriore versamento di 130 mila euro che consentirà, diciamo, di pagare gli stipendi dipendenti e ai calciatori. Quindi, diciamo, 415 mila euro, ma ce ne saranno anche altre discadenze, anche molto importanti, a marzo, quindi il Presidente da questo punto di vista non si è mai tirato indietro e questo è l'aspetto più bello della cosa. Allora, domani al finale la faccio sulla squadra, che cosa si aspetta? Insomma, sta vivendo un ottimo momento, siamo credi di uscire da una bella vittoria, domani c'è un avversario, insomma, difficile. Cosa si aspetta da questa squadra dal punto di vista, insomma, dei traguardi? Mi aspetto che continui a giocare bene, a fare risultati, a stare nelle prime posizioni di classifica fino alla fine, partita per partita, cominciamo da domani con l'Olbia, sicuramente non partita facile, con un attacco molto forte, come ha giustamente evidenziato il nostro allenatore, ma io, ripeto, non posso che ribadire ancora una volta la grande fiducia che ho in Dalcanto, nel suo staff e in tutto, diciamo, il gruppo dei calciatori che veramente sono ragazzi straordinari, molto legati alla maglia dell'Arezzo.